Il comune di Arezzo si costituirà parte civile nel processo per la bancarotta fraudolenta nei confronti di 21 membri degli ultimi CDA di Banca Etruria. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli lo aveva annunciato alcuni mesi fa ed adesso è arrivata la delibera di giunta. Dunque il prossimo 12 ottobre nell'udienza preliminare il legale incaricato Stefano Pasquini presenterà la richiesta. La giunta si legge nella delibera approvato l'opportunità di procedere alla costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale per richiedere il risarcimento di tutti gli ingenti danni anche d'immagine subiti dalla collettività aretina e quindi dall'amministrazione comunale. Intanto sul fronte di un altro filone di inchiesta, quello relativo alla truffa aggravata a carico di dirigenti e manager delle varie filiali dell'istituto di credito aretino accusati di aver venduto impropriamente le obbligazioni subordinate azzerate dal decreto salvabanche del novembre 2015, ci sono novità. Dalle carte processuali infatti emergono nuovi dettagli sulla vendita dei famigerati bond. Gli inquirenti coordinati dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi hanno infatti raccolto le testimonianze di tre ex dipendenti che si occupavano appunto di prodotti finanziari. Tutti e tre hanno riferito di essersi rifiutati di eseguire le direttive in partite per la collocazione sul mercato di quei titoli ritenuti un rischio per i propri clienti e per questo sarebbero stati osteggiati e puniti dai propri superiori fintanto ad essere trasferiti in un'altra sede e privati del portafoglio clienti. Tutti e tre i dipendenti si legge nelle carte e dopo alcuni mesi di isolamento si sono dimessi. Dunque una testimonianza che per l'accusa andrebbe a confermare l'impostazione truffaldina alla base della vendita delle famigerate obbligazioni ai piccoli risparmiatori.